Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tonno in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono tonno fresco, cipolla, olio evo, sale, pepe, acqua, aceto balsamico e zucchero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e l'olio, il sale ed azionare il bimbi per 6 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere l'acqua, l'aceto balsamico, lo zucchero e il pepe. Chiudere con il coperchio, condire il tonno con un po' di sale, un pizzico di pepe e un filo d'olio. posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, anti-orario, velocità soft. Il tonno è cotto e anche la cipolla impiattare e servire. tonne in agrodolce. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!